Facile anche perché ci sono tutti giochi addosso e oggi c'erano anche quelli del presidente. Le chiedo che gara è stata, quanto è soddisfatto, sono viste cose ampiamente positive davanti, magari in difesa qualcosa da registrare, non so cosa, come pensi? Allora, le partite d'esordio sono sempre partite che nascondono tante insidie. Come vi avevo detto in settimana, incontravamo una squadra peggiore che noi potessimo incontrare perché abbiamo trovato una squadra organizzata, una squadra che ha grandissimo entusiasmo arrivando da una vittoria di campionato di primavera 2, la vittoria del Biareggio. Noi siamo una squadra, sì che ha cambiato poco, però una squadra che deve crescere. Mi ha fatto piacere a tutti quanti noi vedere il presidente e il signor Barone insieme ad Antognoni in tribuna, ci ha dato uno stimolo in più. Noi, come tu dicevi, abbiamo fatto intravedere delle buone cose, sono moderatamente soddisfatto, però perché secondo me è una squadra come la Fiorentina. Nonostante di fronte avesse una squadra, diciamo, rodata, con due giocatori che già facevano dell'anno scorso la differenza come Juvarano e Chievo e Calgiano nella Roma, volevo che concedessimo di meno. I ragazzi comunque, dopo il gol dell'1-0, sono stati bravi a riordinare le idee e a riprendere la strada che avevamo in Carrotto.